Siamo qui con i Dubby Dub che introdurranno, anzi apriranno alla grande la prima serata del festival 2011 di Sherwood e la domanda d'obbligo è quella che vi chiederanno sempre tutti e dovrete sopportarla ma a chi non vi conosce ancora e si aspetta un gruppo dub, cosa succederà? Che rimarrà stupito perché non facciamo assolutamente dub, facciamo rock'n'roll più che altro quindi sicuramente si aspetterà qualcosa di diverso da quello che pensava si troverà qualcosa di diverso da quello che pensava Ma prevedi traumi, gente che non tornerà a casa sconvolta da questa esperienza cosa ci farete sentire dal palco? Speriamo, quello sì, sicuramente faremo un bel po' di rock'n'roll speriamo di far muovere molto i culi delle persone siamo due chitarre e batteria oggi quindi in una forma super punk vedrai che funzionerà bene, Jacopo Ok, quindi ci aspettiamo un grandissimo approccio live da parte dei Dubby Dub in questo trio, questo power trio anzi, visto che ho letto un po' in giro, ho guardato il vostro sito ma spesso tutto quello che ci sta dietro come lo definireste il vostro genere? perché ne avete etichettati talmente tanti che alla fine uno potrebbe essere confuso Ma effettivamente ne facciamo un bel po' io direi che l'attitudine è rock'n'roll, punk poi in realtà poi sforiamo anche in qualcosa di grunge in generale comunque il suono è molto grezzo e tirato Ok, attendiamo di vedervi allora sul palco tutti dicono che è dura fare musica in Italia è una cosa, è una lamentella classica Ferrara da questo punto di vista da cui voi arrivate sembrerebbe un po' un'eccezione per certi aspetti un po' più ricettività quantomeno per una serie di eventi dai buskers a Ferrara sotto le stelle che comunque la caratterizzano è così o è solo un'impressione? No, effettivamente ci sono molti gruppi che suonano Ferrara e sempre di più escono fuori festival, localini non lo so, io sono tanti anni che abito Ferrara e negli ultimi dieci anni l'ho vista cambiare molto e migliorare mi sta piacendo molto questa città da questo punto di vista e anche questo secondo me ci ha aiutato in questi ultimi anni a suonare, a riprendere, a fare musica molto assiduamente Ok, se doveste introdurre invece un nuovo strumento nella band è sempre un po' la querelle che nasce quando devi fare un disco hai sempre le partecipazioni, gli inviti speciali perché vorresti metterci un po' di violino, un po' d'arpa, eccetera a voi cosa piacerebbe inserire in maniera magari anche un po' più corposa che una semplice partecipazione? Ma l'abbiamo appena inserito un nuovo strumento, abbiamo inserito il glockenspiel in un paio di canzoni che abbiamo registrato perché siamo appena andati a registrare un altro disco abbiamo messo il glockenspiel e ci piace molto piacerebbe a me una persona musicista che riesce a suonare glockenspiel e marimbe, tutto questo mi piace molto ultimamente queste percussioni che creano anche suoni ci potrebbero stare bene nei dubby dub anche lo schiaccio pensieri anche lo schiaccio pensieri perché non lo sapesse il glockenspiel è per spiegarci uno xilofono in metallo più o meno insomma ho detto metallofono anche effettivamente e com'è il vostro rapporto invece col web? web ormai è diventato, web è un po' tutto, un po' niente nel senso che per gruppi meno conosciuti è una forma di promozione validissima ma anche dispersivissima nel senso che si fa fatica ad arrivare magari al pubblico che invece sarebbe l'ideale per chi fa un certo tipo di musica voi ci prendete molto tempo, vi piace promuovervi così o pensate che ancora fare il vero e grezzo rock'n'roll live è quello che aiuta di più un gruppo? io penso che il web può dare una mano sicuro la sta dando a tantissimi gruppi però poi penso che il momento in cui ci si mette veramente in mostra è il momento in cui veramente ci si fa capire chi si è quando poi si va a suonare davanti alla gente quando si suda davanti a loro quello secondo me è quello che trasmetti durante un concerto è il momento che non ha paragoni con nessun'altra cosa che può essere su un computer perfetto, se aveste una scala da 1 a 10 e doveste dare l'importanza alla musica e l'importanza ai testi nel vostro repertorio come li dividereste? io direi 50 e 50 50 e 50 dai 50 e 50 perché la musica è fondamentale noi di solito partiamo dalla musica per costruire una canzone e poi aggiungiamo la voce quindi di solito è questo poi molti pezzi sono anche poco cantati la parte strumentale ci piace molto cosa dici Enrico? sei d'accordo? sei tu che scrivi i testi? io sono un medium in realtà il processo compositivo è un po' strano perché mio fratello tira fuori parole senza senso noi lo chiamiamo wazza wazza che poi vengono tradotte da Enrico in parole sensate è un modo particolare di scrivere perché comunque ci piace molto curare il suono delle parole quando scriviamo una canzone ovviamente il senso ha la sua importanza però Enrico è quello che riesce a mediare queste due cose scrivendo i testi una domanda un po' atipica se foste una colonna sonora di un film di quale film vi piacerebbe essere colonna sonora? sì secondo me è di un cartone animato perché ci sentiamo abbastanza cartoni animati abbiamo appena fatto un video che non è ancora pronto ma io penso che domani potrete vederlo su sherwood.it è tutto un cartone animato abbiamo fatto questo video in cui un nostro amico che fa i cartoni animati ha ritagliato le nostre foto e ci ha messo in ambientazioni impossibili ed è molto divertente penso che poi anche un pezzo che abbiamo fatto un paio di anni fa è la colonna sonora di un cartone animato un po' strano che si chiama Flipper il cartone animato secondo me è perfetto per la nostra musica ok ultima domanda dopo vi lascio tranquilli anche voi a cenare prepararvi a quello che sarà un grandissimo live abbiamo parlato di Ferrara di tanti gruppi che suonano se doveste segnalare a chi ci sta vedendo ascoltando qualche gruppo con cui avete suonato e che pensate sia meritorio avreste qualche nome da darmi? così ci prepariamo anche noi andiamo a vedere altri live a me c'è un gruppo di Ferrara che piace molto Calorifer is very hot non so se li avete mai sentiti ma sicuramente rimedierò sì dai adesso sono un po' sparsi perché uno adesso sta vivendo a Londra l'altro a San Francisco ma ogni tanto ritornano a Ferrara a fare qualche concerto a me loro piacciono molto sono anche molto amici di me e Enrico quindi loro ci piacciono tanto andateli a vedere ok ringraziamo i Dubbidab e gli auguriamo ovviamente un grande grande concerto ciao